La mia figlia ha detto che si deve riaprire perché c'è mia figlia, mi deve venire a prendere qui a San Lorenzo e portarmi al Maestosi, lei abita lì e a me non mi pare andarci, voglio vedere i film qui, ce l'ho sotto casa, poi ce l'avrò pure indirizzo, ho pulito, ho tutta la bellezza, poi. Penso che sia giusto, sia giusto che sia un luogo dove si possa fare cultura, spettacolo. Non sapevo che già era arrivato il fascio un'altra volta, perché loro non lo sanno, ma io so chi era il fascio. Poi dopo sparavano. Quella volta in cui sono arrivato le guardie, stavo qua quando è successo. No, poi non l'hanno più fatto lo sgombro perché c'era troppa gente che l'ha impedita. Hai vista la foto mia? E quella va nel 19 luglio del 43, quella più piccola, che a 10 anni si pulisce il cinema, come questo. Ero piccola per me, però erano 300 lire all'epoca che invece faccio i soccoletti, io parlo sulle cose vere, non serve a niente raccontare cose che non so bene. Montenegro, Montenegro, a mio cuore unica, sì, siamo anche il cuore lunga, centella, ciururu, sunsine, sunsine e quello che mi manca, sunsine. Grazie.